Finalmente mi ha raggiunto Pierino, che da adesso non è più Pierino, ma è Pierpapino, che strano, Pierpapino, non è una novità, vabbè adesso io sono una diretta interessata, questo weekend ragazzi sono stata proprio in totale relax a Milano, al fresco e ho visto un po' di amici eccetera, ora stiamo partendo e staremo via qualche giorno.